Mi introduco questa strumentazione, Physioton, che presenta una notevole importanza in ambito preventivo, performativo e anche terapeutico. Riguarda soprattutto il rinforzo muscolare, ma anche il rimodellamento corporeo, il miglioramento posturare e l'incremento della salute generale. Oggi sappiamo che il deficit muscolare è legato a innumerevoli patologie e problematiche. Basti pensare al fatto che i muscoli producono le miochine, che sono delle citochine, delle proteine, che hanno un alto potere antinfiammatorio. Non solo, molti studi hanno dimostrato come un determinato lavoro sul rinforzo muscolare aumenta la produzione in maniera sostanziale di ormoni molto importanti come l'ormone della crescita, il growth hormone e il testosterone. L'ormone della crescita è quell'ormone che, mentre siamo bambini, ci permette appunto di accrescerci, ma da adulti comunque determina il rinnovamento cellulare. Quindi potete pensare quanto sia incisivo nella salute, nella nostra salute in generale. Ma anche il testosterone, che è un ormone che si pensa essere soprattutto un ormone sessuale che riguarda i maschi, in realtà viene prodotto anche dalle donne e ha un'importanza anch'esso nella salute generale. Con l'età si tende a diminuire questa produzione e ciò facilita delle disfunzioni a livello generali, come ad esempio l'ipertensione, il diabete mellito e anche la stessa depressione. Il lavoro muscolare poi produce, come sappiamo, molte endorfine, quelle che sono considerate un po' l'ormone del piacere, che hanno questa caratteristica di darci buon umore, di aumentare la soglia del dolore, quindi ci danno un benessere anch'esso a livello generale. Quello che abbiamo visto dagli studi, che questi studi hanno dimostrato, è che il lavoro, un certo lavoro di rinforzo muscolare, principalmente basato sulla potenza, è quello che di più contrasta l'invecchiamento e di più incrementa il benessere generale del nostro corpo a livello psicofisico. Abbiamo così un lavoro muscolare che non si può ottenere con i normali strumenti che utilizziamo in palestra. La macchina permette ovviamente dei programmi personalizzati, in questo modo riusciamo ad allenare tutti i vari tipi di fibre del muscolo, quelle per esempio a contrazione lenta, quelle intermedie e quelle a contrazione rapida. Viene eseguito quindi un lavoro molto completo a livello muscolare, infatti riusciamo ad ottenere un aumento della circolazione sanguigna, un aumento della resistenza, un aumento del tono e del volume e un aumento della forza e della potenza appunto muscolare. La macchina, come abbiamo detto, agisce direttamente sul muscolo, sulle fibre muscolari, ma indirettamente agisce anche a livello del grasso muscolare. Il grande dispendio di energia richiesto da questo tipo di applicazione comporta un fenomeno definito come stress del reticolo endoplasmatico che facilita la smobilitazione del grasso muscolare, non solo del grasso muscolare, ma a lungo andare anche del grasso viscerale. Infatti, oltre al grasso che viene consumato proprio come metabolita energetico, si ha un fenomeno di apoptosi, cioè di suicidio naturale delle cellule dovuto proprio a questo stress del reticolo endoplasmatico. Questo fenomeno di apoptosi ha un netto incremento subito dopo il trattamento, circa il 90%, ma una volta eseguite almeno quattro sedute, prosegue nel tempo fino a due o tre mesi dopo. Così si ottiene anche un rimodellamento corporeo. L'abbinamento con un esercizio di resistenza che coinvolga più muscoli possibile, quindi il sistema cardiovascolare, ovviamente completa la seduta di allenamento, così come un'educazione alimentare, una integrazione alimentare, un controllo della postura e eventualmente anche trattamenti manuali completano in maniera ottimale tutto quello che si può definire una rieducazione alla salute. Gli innumerevoli studi scientifici effettuati già su questa tecnologia mostrano dei risultati importanti già dopo quattro sedute e questi riguardano appunto l'aumento del volume muscolare, la riduzione del tessuto adiposo e ad esempio nel caso dell'addome la riduzione della circonferenza addominale.